Il vento e le foglie d'autunno. Vi è mai capitato di guardare dalla finestra a metà autunno? A me sì, una volta, appena arrivata a casa dopo la scuola. Era una giornata gelida e ventosa ed era bello stare comodamente al calduccio a casa, sfinita dopo una dura e faticosa giornata passata in classe. Però, prima di buttarmi sul letto a studiare, guardo dalla finestra. Vedo il vento, che stacca dal ramo, ormai secco, foglie dipinte di rosso, giallo o arancione, che volano e poi scendono, delicatamente. Fanno stupefacenti peruette, ondeggiando di qua e di là. Intanto, il ticchettio rilassante di gozzoline gelide sui vetri, punge il silenzio. Io non chiamerei l'autunno una stagione, ma una danza imprevedibile.